Un seminario dedicato all'approfondimento e all'aggiornamento dell'accordo ANCI-CONAI sulla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, promosso dall'assessorato all'ambiente. È un seminario dai contenuti molto specifici e soprattutto è una giornata importante, Napoli è contentissima di aver ospitato l'ANCI, il CONAI e soprattutto è un seminario rivolto anche agli addetti ai lavori, amministratori, gli ato dei rifiuti che avranno un grande ruolo importante, tutti i comuni possono collaborare insieme, fonti di finanziamento, la normativa sulla plastica, l'evoluzione del mondo dei rifiuti e apprendiamo con grande interesse per esempio che tutta l'Europa sta andando adesso, compresa l'Italia ovviamente, su questi impianti di compostaggio che da quello che sta emergendo sono sicuri e sono soprattutto indispensabili insieme poi al pacchetto per la riduzione dei rifiuti. Nella sala del capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore sono stati affrontati temi come la valorizzazione dei rifiuti, la raccolta differenziata e le normative relative all'economia circolare. Il corso di oggi vuole fare in modo che sia incentivata la raccolta ma soprattutto una raccolta di qualità perché non serve solo fare la raccolta differenziata, bisogna che poi il materiale raccolto in maniera differenziata venga effettivamente riciclato, le nuove normative europee sono ancora più stringenti non tanto sulle percentuali di raccolta ma tanto sulla riciclabilità del materiale quindi bisogna raccogliere in maniera adeguata un materiale il più pulito possibile con buona qualità perché possa diventare nuovo materiale nell'ottica dell'economia circolare. La Commissione europea punta a un modello che non è più quello di economia lineare ma di economia circolare cioè immettere il più possibile sul mercato beni che siano riutilizzabili e riparabili in modo che poi siano sempre meno quei rifiuti destinati invece alle discariche.